CMC è il nuovo progetto presentato dalla provincia di Macerata dedicato a tutti i giovani che vogliono cimentarsi e sperimentarsi nel mondo del video reportage, al fine di raccontare il nostro territorio da un altro punto di vista. Si tratta di poter partecipare a 7 workshop gratuiti organizzati da professionisti del settore come Officine Mattoli e TV. Il CMC nasce da un'esperienza all'estero dove molto più facilmente vengono organizzati i workshop. Abbiamo organizzato questo progetto che parte da oggi e il bando è aperto fino al 21 marzo. Possono partecipare tutti i ragazzi fino ai 35 anni a gruppi da 5 o da 10 persone. E possono partecipare senza avere già acquisito delle competenze riguardanti il video editing ma basta semplicemente un'idea, una storia da voler raccontare legata ovviamente al territorio, alle Marche, a quella che è fondamentalmente la loro realtà, la realtà che vivono. L'iniziativa è finanziata dalla regione Marche, dalla provincia di Macerata, che ne è ente capofila insieme a ben 7 comuni con finanziatori, di cui Macerata, Camerino, Civitanova Marche, Corridonia, Porto Recanati, Recanati e Torrentino. È un progetto importante perché nasce da una idea importante, quella di valorizzare un territorio, di valorizzare le idee dei giovani, ma soprattutto di creare, di formare delle specifiche professionalità che sono molto aderenti alle necessità di oggi, un mondo che è assolutamente basato sulla comunicazione e che non deve mai essere improvvisata. Comunque ci sono delle specifiche professionalità. Un'idea che ha raccolto intorno a sé anche diversi enti locali e per questo la regione ha deciso di partecipare attivamente con un cospicuo finanziamento a questo progetto. I giovani sono una grandissima risorsa, quindi come ripeto vanno rimessi al centro e cercare di dare loro la linfa per poter portare avanti le loro idee che sono idee vincenti.